Io mi chiamo Luigi, sono titolare di questa attività, ristorante, hotel, due platani a Cornedo, Vicentino. Faccio parte ora di questo progetto dell'anello delle piccole dolomiti dove io sono su questo percorso, mi fa piacere molto, dove io offro varie soluzioni all'interno della mia attività che possono comprendere dall'alloggiare, dormire e riposarsi al poter passare due giorni, fare le proprie escursioni, andare in giro e poter venire a mangiare. Qui potete usufruire della mia officina per sistemare i vostri mezzi, potete ricaricare le biciclette se avete bisogno di ricaricare le biciclette e niente, passate a trovarmi, stiamo creando il posto, lo stiamo evolvendo, cerchiamo anche col vostro aiuto se potete darmi qualche consiglio di aiutarci per rendere un posto migliore per tutti.